ciao a tutti che ciò a tutti di questo episodio di tecnic col tubo sto usando fraps perchè ho notato come soft di gestazione che nonostante non laghi per niente non vedo un micro scatti e robe varie nei video con dxtd me li mostrava quindi lo sto registrando a 30 fps fissi con l'amico fa fraps vediamo cosa si comporta sentivo di rumori di zombie ho detto ma si scaviamo vediamo dov'è ok questo si che non lag spike c'è il mio amico zombie qui oddio mi ha messo i blocchi di terra ti rendi conto ma spero tu ti possa rendere conto stia pette luride mattanto è luride luride no non mi piace non mi piace i micro scatti così non sai che non mi piace wow wow no no fraps pesa troppo eh che sei scemo dovevi perfino abbassare la distanza mettiamo normal più 64 andiamo la ghichi ancora si mamma mia ma ti ha proprio dei micro scatti probabilmente si vedrà anche meglio dire il vero però mamma mia se si vedono i micro scatti no c'è momenti sì e momenti no c'è momenti no non è non è eh vedi a volte scende sui 28 ecco ora ha fatto un 20 ma non lo so non lo so ok forse mi conviene registrare con dxtory locato a 30 mmm nevi discutio ok così dovrebbe andare meglio vediamo sto no vedi mmm è lurido non mi piace sei lurido sei un cagno magari solo techit col tubo però techit col puto col puto techit col tubo è è più pesante di minecraftita decisamente tutte queste cose che vanno voglio mettere normal ma si insomma locare gli fps penso possa essere una buona scelta insomma 30 non me ne bastano di più basta pensare che i film sono a 24 fps eh si io sono rimasto sconvolto quando l'ho scoperto ehm sto fappando tutta la rubber che c'era qua sopra oh 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 si potrei automatizzarlo però non penso convenga è solo un è solo un diciamo un patch di di roba quindi non penso mi convenga lol bene ora oltre a posare le cose inutili e magari anche a bruciarle adesso lavorerò off camera ecco questa è un lag spike lavorerò off camera al monitor vi vedo un po' le funzioni così dopo so spiegarvele per bene e e così faremo un bel episodio corposo spero tosse tosse ok sono passate una decina d'ore direi ehm dall'ultima clip torniamo su andiamo anche a dormire siamo unici sul server ok ehm ho programmatto un po' off camera ho programmatto un po' durante il live ci tengo a precisare che il live non ci sono tutti i giorni ehm dipende dipende molto non ci sono tutti i giorni comunque ecco cosa è venuto fuori abbiamo control panel abbiamo una lista ehm delle cose che possiamo far fare motori fam di skate tartarughe ora ehm farò una rapida modifica per farvi vedere come ah che cacchio faccio sono lit ora vi spiegherò il codice linea per linea quindi se non siete interessati ehm potete anche lasciare dato che moltissimi di voi mi hanno chiesto di fare questa cosa della ehm questa cosa della di computercraft voglio farla quindi ve la spiegherò ehm è nato un piccolo problema a livello logico non logico a livello procedurale ehm durante il live ci sono stati lì più o meno mezz'ora a cercare di risolverlo ehm vabbè intanto faccio così allora come vedete abbiamo i motori che sono on la fam di skate che è off e la tartaruga del bombil che è off come vedete infatti la tartaruga non si muove però che anche la fam di skate che si afferma non mi sembrava e in realtà è vero ora l'ho avviata e come vedete tra pochi secondi la fam di scheletri sarà on la tartaruga del bone meal anche detta pollice verde prendiamo giusto uno stack di scrap e glielo portiamo con il con il collettore è partita ehm ora vi spiegherò come faccio a fare tutta sta roba puff tutte e tre on non è una cosa sempre positiva ed è questo il problema tartaruga del bone meal tende a wow perché non fa cioè perché fa non dovrebbe fare due volte di seguito strano dovrebbe uscire off al prossimo ecco infatti cosa succede succede che ad ogni a un particolare evento ha vinto io tramite il modem invio un segnale al computer principale che è questo con id 68 se non sbaglio no con id non mi ricordo quale 80 80 qualcosa fammi di scheletri off non dovresti è ancora in fase di elaborazione infatti dovrebbe essere on vi spiego qual è il principio poi se c'è qualcuno che ha una versione migliore naturalmente ben accetta vi lascerò il link del programma niente lo mostro in camera e poi chi vuole se lo scarica il principio è ad esempio qui ho i motori come faccio a dire che i motori stanno andando il segnale di redstone sarebbe più corretto mettere un gate che mi dice guarda c'è il liquido se non c'è il liquido allora inviammi un segnale di redstone questo sarebbe l'ideale ma giusto per questione di testing l'ho fatto così allora io qua ho la leva che mi manda tutto il segnale qui ci ho messo un transmitter transmitter eccolo qui ci vogliono dei obsidia stick questi abbiamo già visto come fa negli esclusi episodi è uno di questi obsidia stick ancora e una reader pearl che si fa così è questo ho messo la sequenza la frequenza 601 sensore dei motori ok come funziona il wireless transmitter molto velocemente questa è la chicken bone wireless redstone praticamente tu hai a disposizione degli oggetti degli items che ti fanno trasmettere un segnale di redstone su diverse frequenze senza fili per l'appunto qui puoi cambiare la frequenza ce ne sono tante tante basta sapere tante no 601 io sto utilizzando quelli da 600 in poi voglio vedere questi quanti sono 303 501 500 vabbè io userò da 600 in poi ad esempio qui ci puoi anche mettere un nome questo è quello che avete voi cliccate su advanced ci mettete un nome fai add oppure set non mi ricordo e lui vi dirà fa più bene questa è la tua frequenza per questa cosa poi dietro al computer di qua ci ho messo un receiver che si crafta similmente solo che qua bisogna mettere quella che abbiamo visto prima insieme a una bowl che si fa con tre pezzi di stone e il principio è lo stesso solo che invece di inviare riceve come vedete la frequenza è sempre 601 e lo manda nel retro del computer ora se noi andiamo a vedere il programma almeno una parte del programma andiamo a vedere che quando ecco if redstone get input back vuol dire che se lui rileva che c'è un impulso di redstone che gli arriva dal posterio che arriva dalla parte dietro quindi vedete redstone get input back uguale uguale true quindi comparazione true perché restituisce un booleano then quindi allora cosa fai mi utilizzi la funzione scrivi e mi scrivi che è on come è scritto qui altrimenti quindi se non ricevi il segnale mi dici che è off ora questa funzione scrivi è una funzione che ho ideato io per comodità la vedremo potremo vedere anche adesso no la vediamo dopo ora vi spiego invece che ragionamenti ho fatto per le tartarughe allora per la tartaruga che ammazza gli scheleti ho fatto il ragionamento che ad ogni ciclo del for lui mi invia il segnale ora farò vedere edit start up ora ne ho messi in più ho messo questo qui questo qui in realtà non servono quello del for basta e avanza come vedete l'id del computer 86 ora vi spiego un po' il il comando ok vedete che io faccio rednet che è diciamo la sede la libreria potremmo chiamarla che gestisce questo tipo di comandi del wireless rednet.send vuol dire che lui manda un messaggio a un particolare computer che verrà indicato dall'id che troviamo qui prima della virgola se non mettiamo nessun id funzionerà come un broadcast un rednet.broadcast che lo invia semplicemente a tutti i computer disponibili entro una certa distanza di cui non mi ricordo il valore dopo la virgola mettiamo tra virgolette il messaggio che vogliamo inviare in questo caso operativo cosa vuol dire che lui ad ogni ciclo del foro vuol dire che ogni cubetto che lui si ogni spazio alimentare che lui si passa invia questo segnale e quindi se ci mette troppo tempo anzi se non invia il segnale noi sapremo che non sta funzionando ora possiamo farlo ripartire come vedete praticamente lui ad ogni cosa invia il perché non funziona non vorrei aver eliminato l'open rednet open write rednet send ok dovrebbe fungere mi fa meno danno con la quantum suite andiamo a vedere se funge sul serio avviamo il programma lì e lui con un rednet receive mi identifica diciamo si me lo identifica sarà un bug grafico questo sia un bug grafico vediamo la funzione che ci permette di invece ricevere il messaggio quindi edit monitor la funzione in questione è redstone receive allora io ho creato un'altra funzione un po' più grande che mi fa tutto il processo di scrivere on e off ok basta allora the rednet.receive è una funzione che ha una possibilità di di come si dire come si dice ha un parametro che è il time out vuol dire il tempo che lui aspetterà per ricevere un messaggio se noi gli mettiamo nessun parametro lui continuerà all'infinito se gli mettiamo il parametro invece aspetterà quel tempo e poi ritornerà falso praticamente dirà non ho ricevuto nessun messaggio vai passa alla prossima istruzione allora come vedete l'ho scomposta in tre variabili come sono le variabili che ritorna in caso di messaggio ricevuto cioè l'id di quello che ha inviato io l'ho messo sd nel senso sender id max che sta per il messaggio queste sono tutte virgoli mi raccomando e la dist che è la distanza dei due computer non è completamente necessario ma lo metto perché dopo potrebbe creare un disagio nel senso se poi vado a usare un'altra variabile dopo collidero robe strane non lo so poi faccio un controllo se il messaggio che ho ricevuto è uguale allo stato perché questa è una è una sottofunzione diciamo o una funzione re che l'ho chiamata così non si sa perché fatto anche di me in cui metto l'id e lo stato e la y mi spiego l'id è una cosa che ho messo prima per debugging più che altro quindi non è completamente necessario lo stato è diciamo la stringa che richiedo perché mi dia ona nello schermo e y non è altro che la riga su cui voglio mettere l'on ad esempio la colonna è sempre la stessa cambia la riga ad esempio questa è 4 questa è 5 6 e 7 e quindi vedete qui re 68 ma queste non contate le parole operativo 4 bono operativo 5 quindi faccio questo confronto e dopo faccio scrivi 32 1.5 27 y on ora spieghiamo invece la funzione scrivi andiamo sopra 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 ok ma spieghiamo un po' tutto il programma direzzi partiamo dall'altro facciamo dritto andiamo dritto andiamo procediamo proceduralmente ok basta allora per prima cosa identifico la periferica con cui voglio lavorare la identifico come M non potete cambiare nome perché qui vedete io utilizzo sempre M se cambiate nome qui dopo non funzionano le funzioni doppio senso ok basta peripheral.wrap top vuol dire che la identifica nella periferica che è attaccata superiormente come vedete è sopra al computer il monitor rednet open write quindi apro il modem quindi questo è un computer che potrà ricevere e anche inviare nel senso è operativo questo modem e poi passiamo la funzione scrivi la funzione scrivi accetta come parametri il colore la scala la posizione x e la posizione y posizione x sarebbe la colonna posizione y la riga e il text è il messaggio praticamente quindi seguiamo un po' allora abbiamo il colore il parametro colore che deve essere espresso in numeri c'è la lista di numeri sulla wiki di computercraft c'è 1 2 4 8 16 32 insomma la tabellina del 2 perché in informatica presenta tutte quelle cose strane non mi ricordo la prof l'aveva spiegato una volta non mi ricordo quindi dato che prima ho avuto dei problemini e la stringa che io gli mettevo me la contava appunto come stringa il parametro ho messo un to number che mi trasferisce il valore della stringa in un numero praticamente me lo fa conta come numero quindi non abbiamo possibili errori quindi il colore lo trasformiamo in un numero e dopo facciamo m che è la periferica che abbiamo preso prima set text color quindi impostiamo il colore al colore al colore che abbiamo dato noi facciamo la stessa cosa con la grandezza del testo una cosa che voglio notiate è che quando tu anche alla fine setti la grandezza di un testo cioè secondo quello che ho provato in queste 6 7 ore cambia tutto cambia tutto quindi anche se tu fai tutto gigante poi alla fine metti set text punto 5 ti cambia tutto su punto 5 la grandezza va da 0.5 fino a 5 né oltre né precedentemente non so ok ciao facciamo set text scale to number scale che è il secondo parametro e sempre to number per andare sul sicuro cursor pose cos'è? è una funzione il set cursor pose che ti per appunto imposta la posizione del cursore quindi fai caso che dopo noi facciamo un m.write vuol dire scrivi a schermo queste parole se il cursore rimane tutto là va tutto di seguito noi non vogliamo ciò vogliamo anche andare a capo quindi cosa facciamo set cursore 1 3 che è questo 1 4 che è questo 1 5 se invece facessi tipo 3 3 è questo vedete è terza terza colonna terza rega capite tipo una grande battaglia navale mettiamola così non so se è propriamente corretto ma mi sembra che un quadrato di un monitor sia 10x10 mi è sembrato di capire così facendo dei test ma non ne sono sicuro vedete posizione x e posizione y sempre con two numbers poi c'è l'm.write che è per appunto quello che mi stampa il testo poi ho fatto una funzione idera che mi imposta il background e tutte le cose mi scrive control panel non so perché l'ho fatto ma avevo già fatto il codice non volevo riscriverlo ho detto vabbè lo metto in funzione e lo avvio dopo prima del clear dopo il clear volevo dire vorrei spiegare che cosa è il clear quindi dico imposta il colore di sfondo a nero io qua uso la tabella colors è una specie di array ogni singolo elemento diciamo ha un suo indice l'indice per il nero che dovrebbe essere tipo un numero alto abbastanza alto lo metto black quindi colors.black mi dice ehi ciao mettimi lo sfondo come nero se io mettessi qua colors.white oppure colors.green e faccio così e così ora lo facciamo un'altra volta perché si bugga ogni tanto vedete ora il mio schermo è verde però noi il nero va più che bene ora set text color come prima colors.white text scale come dicevo prima va da .5 da 0.5 a 5 2.5 qui è praticamente inutile potrei rimetterci l'1.5 che avevo messo prima sento uno zombie mi fa sempre cagare addosso dove cavolo sei è notte bene andiamo a dormire mamma mia che cos'è ma la roba lascia stare su via fatto ogni volta eeeh se non ho detto monitor come vedete rimane della stessa altezza cioè della stessa grandezza 1.5 set cursor pause 6 1 quindi sesta colonna ah forse sono 6 per blocco should make sense dipende anche dalla grandezza vabbè dipende dalla grandezza del testo ok questo sembra aver senso quindi sesta colonna prima riga e gli diciamo control panel poi facciamo un mclear vuol dire che lui ad ogni avvio quindi ogni volta che avvio il programma cosa fa lui mi pulisce tutto lo schermo della serie se io ora faccio save exit faccio lua faccio m uguale peripheral punto wrap top e faccio m punto clear puff il mio schermo ce n'è andato però se ora io rifaccio monitor ritorna vedete è on off off ora se lo rifaccio mi pulisce tutto e ora sono tutti on questo per capire la poca efficacia del sistema con red net e per quello che mi sta facendo dannare continuiamo la nostra spiegazione quindi m punto clear poi avvio l'header e scrivo come vedete il colore è lo stesso la dimensione è 1.5 la posizione la riga la colonna è la stessa cambia la riga 3 4 5 6 in cui scrivo le varie cose l'ho scritto per comunità altrimenti ogni volta avrei dovuto dire set cursor pose tac tac set text no set text size e colore non avrei dovuto farlo per forza ma avrei dovuto scrivere set cursor pose poi a capo m punto write era un casino così è molto più facile è molto più veloce poi come vedete qui faccio la storia dell'input e qui la funzione re l'id cos'era volevo fare in modo che lui accettasse un un messaggio solo da un certo id non so perché ma sento che sia una cosa che dovrei riuscire a fare anche se non c'è nella mod io so di doverci di poterlo fare è necessario ho cercato nella wiki per tutto non c'è non c'è questa cosa ora ad esempio se io faccio rednet che mi dici e faccio help rednet ho visto non so vediamo annuncio send send tua specific computer si ma io voglio che riceva da uno specifico computer no non cambia praticamente niente che cacchio monitori e qual'era il mio ragionamento gli dico ad esempio finché l'id che io ti do nella funzione rednet non è uguale a quello che tu ricevi nel rednet nel punto receive tu continui a ricevere ed è un ragionamento che a livello logico funziona il problema è che non riesco ad applicarlo appena inserisco un ciclo while puff crasha praticamente non dico che crasha ma smette di rispondere capite e non so qua chiedo aiuto magari a qualcuno di voi che se ne intende non è che bisogna intendersene molto alla fine è un programmino facilissimo questo però è questo passaggio che mi fa un po' come vi ho detto all'inizio video anzi all'inizio clip ora farò un paste aspetta faccio vedere lo startup che è l'altro ragionamento questo questo programma monitor io voglio che si aggiorni ogni tot e che sia sempre acceso quindi appena entro nel server appena appena si carica il chunk io voglio venire qui e ogni tot secondi so che lui si aggiorni e mi dice guarda questo è on guarda questo è off e questo è il processo è un semplicissimo ciclo con intervallo shell.run monitor slip intervallo fa 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 vento mi continua a scrivere su skype ok tutto qui ora facciamo un paste bin put monitor ok voi farete pastebin get questo codice spazio il nome che volete dargli e niente lo scaricate vedete lo provate magari anche in un mondo single player ci attaccate qualche periferica a voi spero di essere stato chiaro su come si configura e niente comunque è stato divertente programmarlo è stato divertente per quanto nerd nerd si è divertito a programmare un computer si dunque 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 per questo episodio è tutto io vi saluto spero che vi sia piaciuto questo episodio vi invito a lasciare un mi piace per le oltre sette ore di gioco dedicate a questo video compreso il live ho giocato anche un po' di hunger games quindi forse un po' meno ok ciao turururutti ciao 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 ciao